salve a tutti shikabari e bentornati su mario kart we oggi iniziamo le parti extra sì perché in questo video voglio farvi vedere la modalità prova a tempo ecco qui diciamo che farò qualche percorso con vari personaggi infatti non userò sempre lo stesso capito esattamente e in questa modalità si sprocca il mi b ma ragazzi io ci sto provando ma diciamo che per battere tutti i fantasmi è veramente molto molto difficile non so neanche io quanti me ne mancano ma boh raga sinceramente del mi b non me ne frega proprio un bel niente sicuramente andiamo con baby peach anche se la odio e se andiamo con la blue falcon rosa per di più e andiamo a fare un circuito alle scale di yoshi va bene allora questa modalità è una delle più difficili di tutte e con questa potete sbloccare un po di personaggi esattamente e adesso raga piace vedere infatti ragazzi lui adesso da quella parte ecco qui ragazzi vedete attenzione perché anche i fantasmi possono usare le scorciatoie quindi occhio ok perfetto ragazzi eccolo qua è la esattamente ok raga via andiamo eh sì raga questa macchina c'ha un'ottima accelerazione ed è veramente bello ok ho sbagliato strada non volevo andare da questa parte scusate che 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 aspetta aspetta ecco qua direte attivare il fungo ok perfetto eccoci qui all'ultimo giro ragazzi questo è il circuito più corto di tutti o forse è quello di mario nel trofeo fulmine forse è più corto penso di sì sapete vabbè benissimo raga abbiamo fatto 3 2 1 fine completato oh yeah che bello eh ho fatto pure un nuovo record ragazzi molto bene adesso cambiamo personaggio oh allora andiamo avanti ragazzi per pauser junior quella bellissima e favolosa boli del retro si dai per boli del retro ragazzi andiamo a fare non lo so ragazzi non ne so non ne ho idea stadio di gualuigi però c'è il mio fantasma su questo affrontiamo lui va si perché comunque potete anche affrontare i vostri stessi fantasmi e ecco qua forse ho preso la macchina sbagliata mi sa di sì forse no ragazzi forse no eh non ne ho idea raga non ne ho idea adesso controlliamo però sembra che questo gualuigi non sembra così tanto veloce sapete no non mi sembra che dico questi fantasmi li ho già li avevo battuti tipo un casino di tempo fa e non è che me li ricordo a memoria dico capito ok aspetta ok bravissimo ragazzi gualuigi è spesso molto molto vicino è ma che scherza e dico ok perfetto ragazzi e andiamo avanti attenzione perché abbiamo solamente un fungo e bisogna fare molta attenzione a non sprecarvi sapete però gualuigi non sembra che ci possa recuperare abbiamo già recuperato un botto vi consiglio questa modalità per provare i vari kart le moto per allenarvi specialmente nelle prova tempo in singolo infatti e sono comunque molto molto utili ragazzi veramente fatele fatele assolutamente ok bene ragazzi adesso direi di tenerci fungo per dopo questo video penso che durerà un po è perché penso di fare un po di gare semplicemente non penso solamente 4 ma non ne ho idea raga ok ok questa questa corsa però sta durando un po' un po troppo direi quando adesso comunque abbiamo fatto raga quindi tranquilli è l'ultimo giro ragazzi è l'ultimo giro e poi cambiamo personaggio aia mamma mia ok direi di usarlo adesso ok ecco gualuigi è molto molto vicino infatti attenzione a pianta piranha che sta comparendo in un casino di giochi ragazzi eccolo la gualuigi è molto molto dietro vuole farmi del male sicuramente penso ragazzi non facciamoci superare alla fine bene ragazzi abbiamo finito abbiamo finito ho completato yuppie yuppie è fantastico molto bene finito maggio grande ok wario allora wario con direi una macchina ragazzi la piranha turbo dai perché se l'avevo già usata eh senso personaggio comunque mmm vediamo ragazzi cosa possiamo fare deserto picchia sole torri bowser 3 ragazzi eeeh proviamo lui ragazzi oh sinceramente penso che potrei anche perdere comunque se bene vediamo un attimo come andrà siamo a 7 minuti comunque mmm questo fantasma sembra tosto vediamo se sarà veramente tosto come wario il grande wario che va a sbattere come un cretino e ho già un fungo eh mitico mitico davvero ragazzi veramente strepitoso ok ragazzi allora adesso ce la possiamo fare eh ce la possiamo fare comunque perché comunque il turbo lo riceviamo anche in questo modo infatti vedete ragazzi che abbiamo già un bel distacco da schelo bowser che sembra parecchio lento cacchio mmm schelo ma che ti prende oggi a miaia no 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 cacchio non voglio sprecare il fungo ok weeeh ok fantastico molto bene si raga comunque faccio solamente un video nelle faccio solamente un solo video delle prove a tempo eh capito eh chiaro ecco oh sinceramente ragazzi io comunque faccio vedere appunto le modalità e poi penso che la serie si concluderà perché non voglio fare tipo 100 video chiaro quindi comunque non è che mi va tanto non voglio per niente fare video dove affronto i fantasmi e provo a sbloccare le ultime cose diciamo che proverò a sbloccare di più off camera ma non è che mi interessa tanto cioè andassi ho detto comunque che volevo fare il gioco al 100% ma è difficilissimo per esempio molti youtubers famosi portano tanti video ma non completano i giochi al 100% beh senti usiamo lo scatto va che qua wario è lento come lo schifo e sicuramente adesso skill Bowser mi supererà penso eh ok ragazzi cavolo chissà quanto fa caldo secondo me questo posto fa caldissimo infatti ragazzi adesso sto sudando di brutto ed è una cosa bruttissima andiamo sulla rampa bene ragazzi tra poco abbiamo finito eh ok raga questa corsa sta durando un po' troppo ma adesso abbiamo finito tranquilli it's a wario time fantastico finito ragazzi non credo di aver fatto un nuovo record per niente nuovo personaggio personaggio e andiamo ragazzi con andiamo a caso ok baby luigi va bene baby luigi con la moto parotolo biller dai va bene moto parotolo biller andiamo con e qua ragazzi c'è lei daisy ragazzi il problema raga è che voi dite bene ho battuto tutti quanti i fantasmi di tutti i trofei ma voi subito dopo ne sbloccate subito altri ed è uno schifo tremendo e ho sbagliato e ricominciamo scusate tanto vediamo eh ma ragazzi se questa moto sarà all'altezza di questa sfida ma non ne ho non ne sono sicuro ragazzi eh ah porca troppo che schifo raga che schifo ma ragazzi questa parte non l'ho fatta vedere ragazzi sapete una cosa? non me ne frega niente di affrontare i personaggi i fantasmi adesso facciamo bordello andiamo in giro ragazzi ragazzi adesso vado a scontrarmi contro daisy adesso ragazzi la faccio a pezzi e adesso ragazzi baby luigi andrà a battere andrà a colpire daisy eh ve lo dico daisy sto arrivando spada baaam ragazzi guardate sto facendo una gara bellissima sono il campione del mondo eee eee ok mmmm Didi kong Didi kong con la moto match e andiamo a fare oh non so facciamo di trofeo banana no abbiamo già fatto prima no? vabbè facciamo questo oh ragazzi proviamo a fare mmmm oh minuto 19 eh mi sa ok ragazzi questo qui è nuovo come fantasma ma non è che lo conosco molto bene andiamo a affrontare supercio.m non so che cacchio sia veramente qualcuno lo conosce non lo so boh chi lo sa c'ha un meme un po' troppo familiare vabbè ok andiamo a didi kong andiamo mmmm ok fantastico ok mi sa che riesco a battere il tartosso facciamo tante impennate attenzione perché a volte le impennate possono anche rallentare tantissimo diciamo eh attenzione ok 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 perfetto raga perfetto semmai ragazzi dopo questo mh livello qua beh capito penso di concludere qua questo video raga capito andiamo col fungo ok 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 benissimo vai con la rampa fantastico e adesso concludiamo così e ora gente colpo contro il palo a cazzo ok ok ce lo fa benissimo i dati fantasmas non sono stati salvati grazie mille lo uso davvero bene ragazzi allora qua c'è controlla classifica ah canale mario kart no grazie allora gente io penso di concludere qua questo video perché ho fatto vari circuiti appunto in prova a tempo e praticamente è una è una modalità molto molto difficile ragazzi eh ma sinceramente ragazzi non penso di fare un video con il mi b perché il mi b è la stessa identica cosa del mi ma cambia solamente il vestito basta basta non cambia niente non cambia niente è inutile inutile e inutile esatto quindi gente nel prossimo episodio farò vedere la corsa sfida individuale individuale però eh bene e quindi ciao 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 ciao